Rosato, vicepresidente della Camera, Italia Viva, la vedo particolarmente sorridente stasera, Rosato. Poi volevo salutare Antonello Caporale, Il Fatto Quotidiano. Ciao Antonello, buonasera, benvenuto. Abbiamo collegato anche Sandro Venzo, imprenditore che noi abbiamo imparato a conoscere spesso a spiegare di start. Allora, Rosato, alla fine ce l'avete fatta, Renzi ce l'ha fatta. Ci dica la verità, alla fine lui voleva portare Draghi a Palazzo Chigi e ce la sta facendo. Era questa la sua idea? Io penso che noi volevamo, l'abbiamo detto in trasparenza, avere un governo all'altezza della sfida che abbiamo davanti. Questa è la più grave emergenza che nella storia della nostra Repubblica l'Italia abbia mai attraversato. L'ha detto anche Mattarella, abbiamo sentito le sue parole. Le sue parole sono state esaustive, non occorre recuperare niente, ripetere niente. Di fronte a questa sfida, a questa emergenza straordinaria, c'era bisogno, c'è bisogno oggi di un governo che sia all'altezza. E noi temevamo che andando avanti con un governo che ogni piccolo problema, ogni dissidio, lo metteva sotto al tappeto di Palazzo Chigi, l'Italia non si rialzasse più. Questi tre giorni di riunioni sono stati, me lo dia sinceramente, a noi sembra un po' quasi una farsa, una scusa per dire, ci abbiamo provato ma già sapevate come andava a finire? No, devo dire, rispondo con grande sincerità perché potremmo dire, guardate abbiamo fatto apposta per arrivare qui. Non è così. Noi ci abbiamo investito e ci abbiamo creduto nella possibilità di fare un governo con quel perimetro di maggioranza, con cui quella maggioranza non c'era più perché tutti dicevano mai più con Renzi per capirsi. Abbiamo riprovato a mettere insieme, dobbiamo ringraziare il Presidente Fico per il lavoro che ha fatto e abbiamo provato a ragionare sui temi, ci siamo accorti che la parola continuità era la parola più ricorrente in quel tavolo e con la continuità ci sarebbe stata la continuità sulle cose che non funzionavano. Antonello, Antonello Caporale, qual è la tua sensazione? Non ti sento? Quella più plateale e quella anche più banale, gli voleva fare la pelle e gliel'ha fatta ed è tornato a casa con la pelle di Conte, non sapeva di Draghi, presumo che l'avesse saputo poco tempo prima di ieri sera, ma il dato complessivo è di un'inimicizia forte, di un braccio di ferro politico anche e della costruzione di un'alterità. Se andiamo a vedere tutti i temi che hanno toccato i rappresentanti di Italia Viva, hanno lasciato fuori Gesù Cristo, Babilonia e poco altro, cioè non ce n'era un elemento, giustizia, economia, sanità, vaccini, che andasse bene, infrastrutture, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso, se tu stai in un governo e di questo governo nemmeno l'ultima cosa può andarti bene, significa che tu bocci tutta la qualità complessiva delle competenze. Diciamo pure che Giuseppe Conte ha le sue responsabilità, ma le responsabilità gravissime, secondo Matteo Renzi e la delegazione di Italia Viva, ce l'aveva Gualtieri, che è il connettore proprio con Draghi al Parlamento europeo e poi nella Commissione bilancio, e a me risulta che sia molto stimato a Bruxelles, è uomo di potere, di rappresentanza del Partito Democratico. Se quello non va bene, Arcuri non va bene, De Micheli deve essere sostituita, non ne parliamo di Di Maio, assolutamente Lazzolina, allora di che parliamo? Beh, Antonello, però chiedevano discontinuità, se tu poi riconfermi tutti, forse si poteva trovare un accordo, anche magari uno lasciava il Ministro dell'Economia, ma il resto, no? Sì, sì, io penso che non sia stata una trattativa per ricucire, ma per sfregiare. E lo sfregio, cioè la contestazione e poi la vittoria, in questo caso del round, ha un suo epilogo in queste ore, nei prossimi giorni, perché quando la contestazione, la contrapposizione si fa così elevata, quanto la voglia di Renzi sia stata così alta da rendere, anche umiliare Zingaretti, e voi immaginate Zingaretti che cosa può pensare di Rosato e di Renzi? E Rosato, scusi Rosato, ma lei conta i voti con i quali è stato eletto il suo segretario, lei ha votato il governo Conte essendo deputato del PD e dopo si è ritrovato Conte con il capogruppo di Italia Viva. Comprende che l'acrimonia, perché la politica è pure passione, non è solo tecnicismo, politicismo, è così tanta che adesso una super partes, sembra quasi, con tutto il rispetto, l'unto del Signore, ma un pezzo da 90 come Draghi, si ritrova a dover fare di nuovo la catena delle richieste, dei conciliabili con i partiti che misurano il peso, l'astenzione, l'astenzione tecnica. Sentiamo la risposta. Sì, chiudo. Questo perché l'epilogo di quella crisi è stato molto violento e quella violenza, anche emotiva, si trasferisce in una competizione che dovrebbe essere altra, terza, un governo istituzionale dei migliori. Io dico, c'è sempre un paradosso, il governo dei migliori votato, metto il punto interrogativo, ma lo metto solo per, come dire, per un esercizio retorico, il governo dei migliori votato dal Parlamento dei peggiori. Scusate poi Aldo. Penso che siano legittime le posizioni diverse, tra Italia Viva e il fatto quotidiano, ogni tanto abbiamo qualche piccola posizione divergente, questo mi è sembrato di notarlo in questi anni. Ride, caporale ride. Devo dire che però, noi, Ivetti, tutte queste cose, signori, è chiaro che noi abbiamo parlato dei problemi, mica abbiamo detto che non funzionava niente, io rivendico molte cose che abbiamo fatto con il governo Conte e dico anche che il presidente Conte è riuscito in una fase difficile per il Paese a fronteggiare anche in maniera adeguata alcuni temi legati alla pandemia che era molto difficile risolvere, affrontare. Io non sono per le cose dire che era tutto semplice, che bastava poco per risolvere e che non ha funzionato nulla. Però noi abbiamo messo sul tavolo i problemi, era inutile trovarsi e parlare delle cose che andavano bene. No, no, questo è chiaro, l'avete sempre detto. E aggiungo perché mi dispiace che altrimenti passi senza essere corretto su questo. Per esempio, non abbiamo mai messo un veto su Di Maio, mai abbiamo detto che Di Maio non doveva fare più il ministro degli esteri. Trovatemi una sola dichiarazione su queste cose. Non volevate addirittura presidente del Consiglio. No, questa era una desesperazione. Certo che abbiamo detto che sulla giustizia ci vuole discontinuità. Abbiamo detto che sulle politiche del lavoro non c'era una risposta sufficiente. Ma guardate i dati, guardate il tipo di risposte che abbiamo dato, ma andate a parlare con un po' di imprenditori che vedevano la difficoltà che c'era. Ma mica noi abbiamo tutte le soluzioni. Nessuno dice che noi abbiamo tutte le soluzioni. Dicevamo che quelle soluzioni messe in campo da quel governo non erano adeguate. A me sembra un modo corretto di fare politica, soprattutto in una fase emergenziale. Prima di sentire Aldo, una battuta da parte dell'impresa, perché è importante. Sandro Venzo. Ma diciamo che, tanto buonasera, diciamo che questa sera ho un po' il sorriso anch'io. Nel senso che solo Draghi, pur non avendo fatto niente oggi, spread quasi a 100 e i mercati più 2. Quindi qual è il messaggio che passa? Che questo paese ha bisogno di fiducia. Allora, il nome Draghi ispira fiducia. L'impresa vive e cresce se c'è attorno un humus che crea e vive nella fiducia dei mercati, nella fiducia di un paese. Quindi in questo momento, stasera, mi sento anch'io di essere un po' più sorridente. Perché? Perché forse, con un governo appunto del Presidente, quindi fatto, spieghiamo, di persone forti come Draghi, nella speranza che lasciano Draghi lavorare, perché, attenzione, adesso il punto è questo. Riuscirà il Paese, quindi il governo, a costruire un cerchio di fiducia attorno al Presidente Draghi? Questa è la domanda che ci dobbiamo porre, perché allora sì abbiamo fatto, secondo me, un passo in avanti. Quindi questa sera un po' di sorriso ce l'ho anch'io. Allora Aldo, comunque, come andrà a finire? Perché ancora, comunque, abbiamo sentito la Melonia, abbiamo sentito vari ospiti, adesso c'è il Rosato, lo vedo bello sorridente, però in realtà i numeri ancora... Però sorrido sempre io, adesso non attribuiamo un significato politico a questo. No, devo dire è vero, lei nei momenti ha un sorriso, è un ottimista, insomma, da fiducia, però non è ancora scritta l'ultima pagina e soprattutto, per quanto riguarda anche Renzi, voglio dire, ha vinto realmente o rischia invece di andare in ombra con un governo Draghi, magari fatto tutto di tecnici? Io ho la sensazione che Renzi conterà oggettivamente di meno nei prossimi mesi, anche se ha conseguito un risultato politico, ma è chiaro che in un governo di intese larghe un partito piccolo conta di meno. Diciamo che ci sono due precedenti per cercare di capire cosa può succedere adesso. Il primo è Ciampi, 1993, si stava disfacendo il vecchio sistema sotto i colpi di mani pulite, c'era stata una tempesta finanziaria contro la lira, le bombe della mafia, a un momento drammatico, ci fu un blackout a Palazzo Chigi, una notte in cui sembrava ci fosse in corso un colpo di Stato. Ciampi riuscì a tenere la barra dritta, poi nel 1994 ci fu la vittoria di Berlusconi, poi Ciampi rientrò in corsa come ministro dell'economia, fece l'euro e divenne presidente della Repubblica. Con Monti non è andata allo stesso modo. Monti, dopo l'inizio promettente, in cui era stato chiamato anche a riparare i disastri altrui, non ha trovato un assento ignaco del paese. Anche perché lui è arrivato subito e è arrivato con la mazza, scusami Aldo. Certo, c'era da tagliare, anche perché non si era fatta la riforma delle pensioni, non si erano fatte alcune cose, adesso invece c'è da spendere bene. Non c'è dubbio che Draghi sia il più indicato per la sua credibilità in Europa, sui mercati, lo ripetiamo, a spendere bene questi soldi, fare arrivare l'impresa, fare debito buono, non debito cattivo, cioè debito che crea lavoro e non assistenza. Però io mi chiedo, chiedo a Rosato, se poi ci sono questi numeri in Parlamento, siamo sicuri? Non è che magari se la Lega offre di dare una mano e poi i 5 Stelle salvano la purezza della poltrona dicendo no, noi siamo l'opposizione o comunque una parte consistente dei 5 Stelle? Questo dobbiamo aspettare qualche giorno per saperlo. Io dico che noi lavoriamo per essere meno influenti possibile dal punto di vista numerico, perché potevamo essere indispensabili e avere sempre il coltello della parte del manico, come si dice in maniera gergale, con un governo Conte-Terre, ma non abbiamo scelto questa strada, che poteva anche pagarci dal punto di vista della gestione del potere. Abbiamo scelto una strada, scegliamo una strada, che è quella di metterci nelle condizioni di avere il consenso più largo possibile in Parlamento, in maniera che veramente io non credo a questa differenziazione tra governo tecnico e politico, perché il governo di Draghi, secondo me, sarà il governo più politico che abbiamo visto negli ultimi anni, perché imporrà... Con ministri politici anche, secondo me? Con decisioni politiche, perché imporrà partiti che sono attualmente in forte contrapposizione di mettersi un passo indietro e di privilegiare un dialogo su temi che non saranno su tutto, non sarà su tutto, ma sarà sull'emergenza e su recovery, per evidenziare uno sforzo per far ripartire questo paese che sta soffrendo come nessun altro paese in Europa. E io penso che questo sia il più grande governo politico che si possa fare. Dopodiché, se ci saranno personalità politiche all'interno della compaggine governativa... Ma già lo sapete voi questo? No, non lo sappiamo. Io, per dire la verità, penso che ci sarà sempre un mix, mettendo anche delle personalità politiche. Penso io, soprattutto, ci sono di casteri dove i sottosegretari, dove i rapporti col Parlamento lo richiedono, sono indispensabili. Penso che questo ci sarà.